Dieci sale espositive, centinaia di reperti che vanno dall'età preistorica a quella medievale, due piani da visitare, zero barriere architettoniche. Da sabato pomeriggio Noto ha ritrovato il suo museo civico-archeologico allestito nei bassi del complesso monumentale del Santissimo Salvatore, ex monastero delle Benedettine, in pieno corso Vittoria Emanuele. L'inaugurazione alla presenza della sovrintendente di Siracusa Martinez e del direttore del parco archeologico di Siracusa e Loro Villa del Tellaro e Acrai, Carlo Staffile, poi l'apertura al pubblico. Dopo tanta fatica e il coinvolgimento di tante persone e tanti enti, ha detto il sindaco Corrado Bonfanti, riapriamo un museo che è espressione ritrovata delle nostre radici. Un museo che aveva cominciato le sue attività nel 1965, poi chiuso nel 1986, dopo 35 anni, la necessità e il desiderio di ringraziare tutte le persone che si sono impegnate per questo progetto collettivo, sovrintendenza, parco archeologico, professionisti e altre strutture intermedie. Non è stato facile perché ci è voluto un approccio delicatissimo ad una storia di millenni, che sono figure competenti, che ci hanno permesso di ricostruire con innesti legati anche alla nuova tecnologia, che renderanno più avvigente la visita al museo. Noto ritrova le sue radici tra manufatti oggetti risalenti a decine di campagni di scavi realizzate tra Monte e Finocchitto e la necropoli di Castelluccio, con l'epigrafe del Ginnasium recuperata a Noto Antica e i resti del santuario di Demetra e Core nell'Antica e Loro. La colonia greca sul mare è un viaggio tra le origini di Noto, arricchito dalle ricostruzioni al computer e al momento anche da un cratere prestato dal Museo archeologico regionale di Siracusa Paolo Orsi.